Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale. A grande richiesta faccio il video-vlog della mia esperienza di Sanremo 2013. Ovviamente sto parlando del festival di Sanremo 2013. Io vado ogni anno a vedere il festival, non all'interno, ma vado a vedere l'atmosfera, vado lì, insomma. Poi, per chi conosce un po' quell'ambiente durante il festival, sa che Sanremo è tappezzata di camion, ancora all'interno radio, in cui fanno le interviste e quindi ci sono sempre cantanti o personaggi famosi che fanno le interviste in questi posti. Dopo cinque anni, io che vado lì, so perfettamente tutti i luoghi dove fanno le conferenze stampa e cose del genere. Naturalmente, appunto, ai cinque anni che ci vado, mi piace sempre di più. Quest'anno è stato il mio anno preferito, perché? Perché c'era il mio cantante preferito, che chi mi segue già da tempo qui su YouTube sa che è Marco Mengoni. Quest'anno sono venute anche tante persone che conoscevo riguardanti appunto fan di Marco Mengoni, apposta per lui. Io ci vado ogni anno, naturalmente ci sono andata anche quest'anno, ed ero un tanto felice che ci fosse anche lui in gara e ha vinto. Meno male, perché ho speso veramente troppi soldi con il televoto, però appunto soldi ben spesi in quanto ha vinto. Se siete d'accordo o meno con la sua vincita, non so cosa dirvi, perché comunque a me la canzone piaceva tantissimo. lui è sempre pazzesco, di una gentilezza allucinante. Ci ho fatto una foto insieme, perché, vabbè, adesso vi racconto. L'ho visto parecchie volte, perché appunto seguivo su Facebook, mi arrivavano gli aggiornamenti delle radio in cui facevo le interviste, quindi io andavo in quella radio per sentire le interviste dal vivo. Comunque, vi racconto in generale. Io sono partita giovedì, sì, sono partita giovedì mattina, quindi sono stata giovedì, venerdì, sabato, domenica, e sono stata anche lunedì, sono partita lunedì pomeriggio, insomma. Sono stata qualche giorno, ed è sempre fantastico stare lì a Sanremo durante il festival. Io adoro Sanremo, ho la casa a Sanremo, ci vado tutte le stati, ed è una città che adoro, veramente, io l'amo con tutto il mio cuore. Non è una grande metropole, naturalmente, ma sarà che ci vuole da quando ero piccola e ci sono affezionata. Durante il festival prende completamente un'altra aria. Non sembra vita reale quando sei lì. Parlo da turista. Se fossi un cittadino di Sanremo, odierai il festival, perché c'è un casino che non potete capire, veramente. È allucinante che casino c'è in quel periodo, macchine, camion, traffico, allucinante, però da turista c'è veramente un'aria misteriosa, non misteriosa, un'aria surreale. Non sembra appunto vita reale, perché dove ti giri, ti giri, c'è qualcuno che fa un'intervista, ti giri telecamere, ti giri... Ah, ma quello è quello di quella trasmissione, ah, quello è quello di quella radio. Non lo so, è bello stare lì, perché appunto vedi tutte queste persone che si è abituata a vedere soltanto in televisione. E per chi è appassionato di queste cose, piace. Io non sono naturalmente l'unica, perché a Sanremo ce ne sono veramente tante persone come me, appassionate, diciamo, di vedere persone famose dal vivo. Ma non per un qualcosa, per curiosità più che altro, per vedere un attimo se dal vivo sono differenti rispetto alla televisione, per vedere il loro carattere reale, se sono antipatici, se sono prepotenti, in generale, no? E' pieno in giro di quelle persone, e quindi c'è questa atmosfera fantastica. Lunedì è stato bruttissimo, perché cambia completamente la città da domenica. Iniziano a togliere tutti gli addobbi, iniziano a togliere tutte le stazioni radio, e ritorno alla Sanremo di sempre. Vediamo un po'. Sono arrivata giovedì, e giovedì è stata assolutamente, assolutamente la giornata più bella. Una giornata che probabilmente non dimenticherò mai, perché la sera ha completato una giornata perfetta. La sera è stata una delle serate più belle della mia vita. Comunque, adesso ci arriviamo. Dunque, sono arrivata giovedì, e vado a prendere... Guarda, mia nuova cover moschino. Vabbè, devo caricare il video degli acquisti di Sanremo. Stavo dicendo, vado a prendere le note, perché mi sono notata tutti quelli che ho visto, perché non me li sarei ricordata tutti. Allora, sono appena arrivata, ho visto il conduttore, ho visto Fazio. simpaticissimo, veramente, parlava tranquillamente con tutti. Una persona fantastica, come l'anno scorso Gianni Morandi. Fantastico, era disponibilissimo. Delle persone veramente a modo. Poi, sono andata in un'intervista, vi dico quelli più importanti, perché se no questo video durerebbe ore. Poi ho visto in una radio, che era Radio Music... No, Cubo Musica. Era Cubo Musica, sì. E ho visto lì parecchie persone, fra cui Antonella Lococo, che era una partecipante ad X Factor di qualche anno fa, forse l'anno scorso. E niente. Poi, che ho visto? Ho visto i Modà. I Modà... Non lo so, sarà che sul momento erano agitati? Quello loro li ho visti ad RTL 125, poi li ho visti mentre facevano il servizio delle Iene, quello dei Capi Ultra. Li ho visti un po' dappertutto, parecchie volte. Perché me li trovavo lì? Non perché mi interessasse più di tanto vederli, nel senso che li ho già visti gli anni precedenti. Trovo che siano dei bravissimi cantanti, assolutamente, con delle bellissime canzoni, però il mio stato di fan non riguarda loro. Comunque mi sono sembrati abbastanza sulle loro, soprattutto che magari era un momento di tensione, non era comportato da un loro carattere, ma probabilmente erano in tensione per la gara. Poi, dunque, vi devo raccontare che c'è un locale lì, in cui si va la sera, che si chiama Victory barra Morgana, che è bellissimo, strastra alla moda, ha un soffitto che si apre d'estate, e quando è chiuso ci sono tante lucine che sembrano un cielo stellato, ed è bellissimo. Prima fanno aperitivi, poi dopo c'è anche la cena, e poi volendo c'è anche la discoteca. D'estate è bella la discoteca perché è sulla spiaggia. E comunque li organizzano ogni sera delle serate, in cui ci sono persone famose, tipo quando sono andata io, c'erano i Janisse, che è un gruppo che ha vinto parecchi anni, nel 97 mi sembra, Sanremo, con Fiumi di Parole, che è una canzone fantastica. Poi che ho incontrato, mi ricordo come si chiama, un non DJ, ma un VJ, non lo so, uno di quelli che intervista nelle radio, ma è famoso, quello di Radio DJ, adesso veramente non mi viene il nome, se poi mi viene ve lo lascio da qualche, Greco, eccolo Greco, che ho già visto appunto a Radio 125. Poi, nel retro dell'Ariston, ho visto Malika Jan, ho visto Annalisa, Annalisa l'ho vista anche dal RTL 125, poi, al Palazzo dei Fiori, ho visto Max Gazze, non vi nomino Marco, perché Marco praticamente l'ho visto dappertutto, perché seguendo i suoi spostamenti, che venivano comunicati su Facebook, l'ho visto praticamente ovunque, al Palazzo dei Fiori, nel retro, davanti all'Ariston, RTL 125, Cubo Musica, da un po' di parte, comunque, giovedì è stata una giornata perfetta, perché già da subito, ho incontrato veramente tante persone, non mi faccio fare le autografie, di solito, non mi piacciono le autografie, non me ne faccio niente, preferisco fare le foto, possibilmente insieme, ma la maggior parte delle volte, insieme, non riesco, e quindi gli faccio una foto, semplicemente a loro, e comunque, giovedì è stata una giornata perfetta, alla fine, decido di andare con una mia amica, un'amica di mia mamma, e mia mamma, in un ristorante, che era per mare, così, perché era un posto che ci piace, ma non pensavamo di passare una serata così bella, cosa succede? Succede che, vado al ristorante, ordino da mangiare, nel frattempo, nel grande schermo, si stava esibendo, esibendo, Marco, e faccio i miei commenti, e la cameriera viene ad ordinare, sentiva i miei commenti, mi farà, beh, sarai contenta allora, stasera, e io gli faccio, perché? E mi fa, è perché, viene Marco Mingoni qui, fra un po', appena finisce di cantare, a mangiare, viene tutte le sere, questa è la mia faccia, ti giuro, vi giuro, non ci potevo credere, sono veramente, estasiata, da quanto sono stata fortunata, nel senso, con tutti gli artisti, e le persone che ci sono, a Sanremo, con tutti i locali che ci sono, che lui poteva scegliere, e che io potevo scegliere, è incredibile, come cosa, che abbia avuto questa coincidenza, e quindi tipo, ero veramente felicissima, per un'ora, tipo, non un'ora, era tre quarti d'ora, ho aspettato il suo arrivo, tremavo, veramente, perché comunque, durante le ospitate radiofoniche, non ero così agitata, perché comunque, vabbè, ero un'ospitata radiofonica, il pensiero di averlo, praticamente, a dieci metri, a mangiare, nemmeno, quanto era, boh, non lo so, a mangiare per tutta la sera, cioè, allucinante, ero felicissima, ero davvero felicissima, alla fine è arrivato, di fianco a me, c'era una tavolata, fan di ragazzi, di donne, non erano ragazzi, erano donne, fan di Marco, che quando è entrato, gli abbiamo, battuto le mani, perché, comunque, ha appena finito di cantare, ed era con la sua manager, Marta, e con, la sua, non la crew, come si chiama, la crew, era con, il suo staff, ecco, una cosa del genere, e, e niente, sono stati lì a mangiare, e poi, sono stati disponibilissimi, tipo, abbiamo un po' parlato con, Marta, la manager, abbiamo parlato con lui, io mi sono fatta la foto insieme, ci sono fatte due parole, così, è stato veramente fantastico, perché, poi, dopo, tipo, c'era una canzone, c'era una canzone, che era, Felicità di Albano, sempre nel maxi schermo, e abbiamo iniziato, a cantare tutti insieme, praticamente, lui da una parte, così, e poi tutti, cioè, è stato fantastico, è come se fossimo stati, tutta, una grande serata, no? Il telefono, che interrompe, questi momenti di gioia, e, dicevo, è come se fosse stata, una grande serata, tutti insieme, oh, metti a fuoco, eh? E, poi, cosa succede? Succede che c'era, il televoto parziale, e, risulta che Marco era primo, e quindi, di nuovo, un casino, abbiamo fatto, allucinante, perché, lui era stra emozionato, lui è sempre, stra disponibile, stra gentile, e, nonostante, comunque, fosse una serata sua, dava retta a tutti noi, tantissimo, eh? Che poi tutti noi, non eravamo in tanti, c'era una tavolata, poi c'ero io con, con tre persi, con mia mamma, l'amica di mia mamma, e la mia amica, e poi, c'era un altro tavolo, di alcune ragazze, e basta, di suoi fan, diciamo, eh, però, veramente, ci ha dato tantissime attenzioni, è stato fantastico, davvero, Marco, e, di una gentilezza pazzesca, nel senso, non tutti avrebbero fatto così, la stessa sera, la stessa sera, dall'altra parte, cioè, io ero qui, Marco era lì, e, di qua, avevo Chiara, eh, di X Factor, eh, lei già, era un po' meno disponibile, non so, per quale motivo, non so, magari, io si vergognava, mentre Marco ormai, non si vergogna più, nel senso, eh, ci, eh, non vorrei dire, proprio, la parola, ci conosce, però, di vista, comunque, dopo parecchie volte, che, negli stessi giorni, ti vedi, non lo so, e, comunque, Chiara era un po' meno disponibile, abbiamo fatto, abbiamo fatto anche con lei, la foto insieme, e, non lo so, sarà che lei, ha sempre, quest'aria, un po' svampita, eh, che a me piace tantissimo, eh, però, appunto, l'ho trovata un po' sulle sue, e poi, chi c'era, nella stessa sera, però più distante, dove ho visto solo passare, eh, c'era anche, eh, le silvestri, non, non, ho avuto un attimo, eh, di vuoto mentale, e poi, l'ultima sera, domenica sera, sempre nello stesso locale, sono di nuovo andata lì, ho incontrato, sì, siamo nei cristicchi, con la sua capigliatura, sì, però con lui, non ho nemmeno parlato, perché era da solo al tavolo con un uomo, sì, un uomo, non mi interessava andarlo a disturbare, onestamente, già, disturbare gli altri, per me è stata una grande fatica, perché mi vergogno sempre, mi scoccia, disturbare le persone, e quindi, niente, poi, che ho visto, ho visto Giletti, ho visto le Donatella, ci ho fatto la foto anche insieme, ho visto Rocco Tanica, ho visto Marta sui tubi, e, ah, ho fatto la foto anche con Emma, Emma Marrone, lei è molto disponibile stata, ha fatto la foto con tutti quelli che erano lì, l'ho incontrata per caso in un altro ristorante, la mia fortuna è disarmante, veramente, è stata disponibilissima, ha fatto la foto con tutti, però, a questo fare, sempre, un po', leggermente grezzo, sì, devo dirlo, a questo fare un po' grezzo, aspetta signora, tutto così, no? Però, vabbè, è stata gentilissima, davvero, è stata veramente gentilissima, poi ho visto Benedetta Mazzini, Vessicchio, Miss Italia di qualche anno fa, che è tipo il doppio di me, Andrea Bocelli, tanti altri, veramente tanti altri, è stata un, è stato il più bel Sanremo, secondo me, anche grazie al fatto che ci fosse Marco, perché comunque, per un fan, è una cosa fantastica, vedere il proprio idolo ogni giorno, è proprio bello, nel senso, si è abituata a vederlo nei giornali, per televisione, nei concerti, ma vederlo tutti i giorni, è veramente bello, e niente, mi sto emozionando, perché, mi, era una settimana fa, e, mi viene la nostalgia, i nostalgi, mi venivano a cantare adesso, e, qual è stata la mia esperienza a Sanremo, se avete l'opportunità di andare a Sanremo durante il festival, vi consiglio vivamente di andarci, perché non ve ne pentirete sicuramente, e, e niente, se avete delle domande da farmi, io vi rispondo tranquillamente, come sempre, PS, ho intenzione di aprire un blog, siete d'accordo, mi piacerebbe come idea, mi aiutate con il nome, vi scongiuro, aiutatemi con il nome, perché non ne ho la minima idea, e finché non ho un nome, non posso aprirlo, e quindi, devo, aiuto, devo trovare questo maledetto nome, che non sia Miss Carla Pink, perché questo nome mi sta perseguitando, e non lo sopporto più, e, mi sa di avere finito, perché poi, tanto tutte le giornate erano uguali, nel senso, mi svegliavo, andavo in centro, mangiavo, stavo in centro, e tornavo a casa, cioè questa è la giornata, nelle varie postazioni radio, e boh, niente, questo è stato il mio Sanremo, come avete visto, mi sono divertita veramente tanto, non sono riuscita a fare vlog, perché lì vive, cioè lì c'è frenesia pura, nel senso, non avrei avuto il tempo, di mettermi lì a fare il video, perché, devi correre da una parte all'altra, se vuoi vedere qualcuno, quindi, non ci sono proprio riuscita, niente, con questo, io vi mando un grossissimo bacio, spero non mi abbiate preso per pazza, perché posso risultare pazza, in questo video, però, tranquilli, normalità, questa è normalità, e niente, vi lascio, e vi mando un grossissimo bacio, ciao, alla prossima, ah, non, il video, vedete che è un po' brutto, cioè nel senso, non è il massimo, della qualità, ma tanto era un video parlato, che è un po' brutto,